Un censimento per verificare la presenza di canali e fognature presenti sul territorio cittadino nonché eventuali corsi d'acqua tombati o abusivi, ma anche allacci fuori norme e sversamenti non autorizzati nei canali. E' quanto disposto dal sindaco di Sarno attraverso un'ordinanza sottoscritta in queste ore che nasce dai fenomeni alluvionali verificatisi negli ultimi giorni, molti dei quali potrebbero essere causati da corsi d'acqua non visibili e non noti, realizzati non in conformità né mappati. Per fare ciò l'ente comune si avvarrà dei tecnici del consorzio di Bonifica, ma il problema dei corsi d'acqua tombati è un problema diffuso e riguarda anche i comuni di tutto l'agronocerino sarnese. E' per questo che il commissario del consorzio di Bonifica, Rosario D'Angelo, si dice pronto a collaborare con tutte le amministrazioni comunali che volessero uniformarsi a quella di Sarno ed avviare un tavolo tecnico per avviare un censimento su tutto il territorio. Venendo al comune di Sarno dove è soggetto ad allagamenti, il sindaco ha fatto un'ordinanza per quanto riguarda le acque reflue e in questo caso ha chiesto la collaborazione del consorzio che noi abbiamo subito offerto alla nostra polizia idraulica, ai nostri geometri, ma questo lo può chiedere qualsiasi sindaco per quanto riguarda i canali tombati. Canali tombati abusivamente, in genere da soggetti privati senza autorizzazione consortile per quanto riguarda i nostri canali, ma anche altri canali privati o vecchi canali di irrigazione di 30-40 anni fa in cui scaricano abusivamente. E in questo caso noi licenziamo, li segnaliamo qualora ce ne fosse bisogno della giudiziaria o diamo esecuzione all'ordinanza dei sindaci come in questo caso del sindaco di Sarno. Canali coperti a vedere degli scarichi, eventualmente di fogno o di vasche settiche private all'interno degli stessi, che quando poi ci sono le forti piogge esondano e allagano le strade e quindi a questa cosa si può ovviare facendo un censimento, un lavoro certosino di verifica e di controllo, però una volta si deve iniziare. Perché una volta scoperti dovranno ripristinare, secondo l'ordinanza del sindaco, quello che prevede nello specifico, ripristinare quello che era l'opera originaria, altrimenti possono essere le conseguenze e i provvedimenti di caso. Vi avverrete di strumentazioni particolari o sarà un'opera di censimento fatta sul posto? I classici strumenti che possiamo avere, rievi topografici, mappe, catastali, insomma, quindi ci sono dei tecnici. Quando i ricotec sono ingegneri e geometri del consorzio, la stessa cosa è il comune. Qua allora poi c'è anche la polizia idraria che eventualmente per ridurre qualche sanzione amministrativa e poi la polizia comunale e altre per eventuali denunce, se è il caso, lo specifico lo richiede.